Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare dei giardini della Porcinai. Siamo andati a raccogliere l'appello di commercianti e residenti. Non ci si sente più sicuri noi commercianti. Degrado, spaccio, droga, rischi. Questa zona qui della stazione, via Guido Monaco, via Spinelli, sembra come lasciata andare. È un grido unanime quello che si alza dalla zona dei giardini del Porcinai, proprio di fronte alla stazione di Arezzo. Qui è un biglietto da visita, se arriva col treno c'è uno spettacolo, perché comunque vedi tutta piazza Guido Monaco, vedi il Duomo. Uscire dalla stazione, trovarsi in delle situazioni dove la sera, io chiudo a una certa ora, diciamo anche presto, perché 7.40. Però ti trovi in situazioni di ragazzi ubriachi, che si picchiano. Secondo me un certo presidio qui, visto che insomma su tante cose sono presenti, qui si tratta di incolumità, si tratta di sicurezza. Residenti e commercianti tornano così a chiedere più attenzione e maggior sicurezza. E specialmente adesso che arriva l'inverno di sera ho quasi paura a volte a chiudere, specialmente se gli altri esercizi pubblici accanto a me sono chiusi, insomma, anche perché non siamo tutelati. Noi commercianti secondo me stiamo soffrendo abbastanza di questo macello che sta qui nel parco. Io ho la pasticceria, però vedo che la gente è impaurita, cioè a passare proprio da queste parti non ci passano volentieri. Bisogna per forza stare in due, perché da soli uno ha veramente paura in determinati momenti. Non solo microcriminalità, ma anche sporcizia e degrado segnalato da chi la zona la vive tutti i giorni. Qui c'è da chiamare l'ufficio di igiene, perché veramente dalla puzza, tra il vomito, tra l'urina, è una cosa. E poi come sono tenuti questi giardini? Sono indegni, sono indecorosi. Quindi che si fa? Lo chiedo all'amministrazione, cosa facciamo? Pensate di poter fare qualcosa? Pensate di poter mettere mano? Ancora cronaca, gli agenti del commissariato di Sansepolcro hanno controllato in orario serale quattro esercizi pubblici e i loro avventori, identificando 315 persone. Hanno denunciato anche una minorenne per possesso e fini di spaccio di 20 grammi di hashish, già suddivisa in dosi e un bilancino di precisione. L'attività, effettuata nella scorsa settimana, rientra nel piano di rafforzamento dei servizi di controllo del territorio, voluti dall'acquessore di Arezzo dopo l'ultima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E sempre in Valtiberina, su segnalazione della personale di un supermercato e dopo la visione delle registrazioni delle tericamere di sicurezza, i poliziotti hanno smascherato le autrici di un furto di prodotti cosmetici per la cura della persona. Due donne che erano riuscite a portare via merce per un valore complessivo di oltre 2500 euro. Entrambe adesso denunciate per furto aggravato. Questa mattina invece è stato siglato un protocollo di intesa tra il Comune di Arezzo e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, volto a rafforzare le azioni a tutela della legalità d'azione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel Comune Capoluogo. Grazie al protocollo, l'attività di monitoraggio delle fiamme gialle potrà aggiovarsi dell'impegno assunto dal Comune a fornire informazioni e notizie circostanziate raccolte nella fase di esecuzione del contratto e ritenute utili alla prevenzione e alla repressione di eventuali illeciti nello specifico settore. E adesso torniamo invece a parlare del cantiere di via Fiorentina a seguito delle preoccupazioni manifestate dai commercianti delle attività che insistono nella zona. Questa mattina un sopralluogo dell'assessore Marco Sacchetti. C'è da garantire la sicurezza di chi lavora, la sicurezza di chi transita sia in macchina che a piedi. Quindi ovviamente l'omplessità c'è, dei piccoli disagi sicuramente ci saranno, bisogna cercare di minimizzarli. Quindi l'invito che io ho rivolto a tutti è di cercare di essere veloci, di lavorare in sicurezza, ma velocemente anche su più turni di lavoro in modo tale da cercare di ridurre questi tempi dell'ordinanza che è un mese. Erano stati i commercianti della zona a chiedere a gran voce di accorciare i tempi dei lavori per limitare le difficoltà. Questa mattina un sopralluogo per via Fiorentina e la sua nuova viabilità che ha comportato anche lo slittamento dell'avvio dei lavori previsto inizialmente per ieri. Abbiamo fatto un sopralluogo con tutti i soggetti coinvolti in questo lavoro, alla presenza anche del comandante della Polizia Municipale e del vicecomandante, che ringrazio per la loro presenza, per valutare se potevamo in qualche modo intraprendere delle soluzioni per minimizzare ovviamente l'impatto della cantierizzazione sulla via e quindi sull'attività che gli insistono. Quindi c'è stata un'apertura da parte ovviamente dei vari soggetti responsabili e di valutare se organizzare i cantieri su fasi, perché ci sono più fasi lavorative e quindi in determinate fasi, la fase anche iniziale, di lasciare comunque aperta una corsia di via Fiorentina in uscita. Mentre la corsia in ingresso verrà ovviamente chiusa per cantierare, perché c'è necessità appunto di stoccare materiali, mezzi e così via. Quindi questo è un risultato, credo sia un risultato importante, perché un po' va incontro anche alle richieste dell'associazione. Sarà una chiusura in entrata già da domani? Ma credo di sì, quello che mi hanno prospettato è questa successione temporale. Si tratta dell'ultimo intervento per la sistemazione dei sottoservizi per la realizzazione della rotatoria. La parte conclusiva dei cosiddetti lavori propedeutici, perché è lo spostamento di secondo collettore fognario. Cioè la lavorazione che viene fatta in questo mese sarà la connessione tra il vecchio collettore e il nuovo collettore. Il nuovo collettore ci consente poi di poter proseguire per fare l'opera vera e propria, che è il sottopasso sostanzialmente. Quindi finita quest'opera qui, io mi auguro che mi dicano i tecnici che i progetti sono tutti pronti, rivisti, rivisionati. Quindi c'è tutto e quindi finita questa fase si possa davvero, spero, spero di iniziare con i lavori veri e propri. E dopo il sopralluogo l'assessore Sacchetti ha anche incontrato le associazioni di categoria che chiedono più tempo. La direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi ritiene infatti che c'è ancora troppe le incertezze sulla canterizzazione e rilancia che il cantiere venga spostato a gennaio, non avendo la garanzia che le soluzioni ipotizzate dal comune, seppur migliorative, siano in grado di non creare danni ai commercianti. Iniziare ora significa cogliere impreparati i cittadini ed imprenditori perché fino all'ultima è mancata l'informazione, aggiunge il direttore aggiunto di Confcommercio, Catiuscia Fei. È troppo rischioso aprire il periodo prenatalizio con il cantiere ancora in corso. Sarebbe un disastro per i negozianti, conclude Catiuscia Fei. Adesso passiamo alla pagina della politica. Questo fine settimana il congresso d'Italia Viva in provincia di Arezzo. Ora sentiamo le parole di Gianni Ulivelli. È pronta l'ossatura di Italia Viva, partito giovanissimo nato nel 2019, che andrà ad affrontare le prossime ed importanti sfide elettorali. Un partito che vede indubbiamente nel suo leader Matteo Renzi un faro, ma che si sta strutturando anche a livello locale e regionale. Gianni Ulivelli è il nuovo coordinatore per il territorio aretino. Matteo Renzi presidente nazionale, Nicola Danti presidente regionale e io nella mia modesta possibilità o capacità presidente provinciale. La sfida è indubbiamente a più livelli e lo spirito con cui Italia Viva intende affrontarla è quello delle alleanze. Oggi questo sistema elettorale ha bisogno di avere uno spazio nuovo per rappresentare un'offerta politica più ampia. Un'offerta politica che non può essere solo di Italia Viva, ma di questa grande, per me, alleanza che deve coinvolgere da liberati democratici ai socialisti, ai popolari, ai radicali, ai riformisti, al mondo repubblicano e liberale. Tutta quest'area deve trovare un motivo di lavorare insieme per essere presente sia a questo grande appuntamento che sono le europee, dove noi siamo dentro questo raggruppamento rappresentato dal Regno Europa, dove il leader attualmente è Macron. E dall'altra parte, secondo me, invece, questa alleanza ha un impegno importante anche nel nostro territorio. Perché? Perché ci sono 26 elezioni amministrative da qui a giugno 2024. E quindi, siccome oggi, specialmente nei territori, la presenza dei partiti è diventata vacua o non ci sono, o comunque ci sono persone di referenti, non c'è la presenza fisica, al più delle volte, anche come era nella prima Repubblica. È chiaro, questa è la conseguenza di una stagione dell'antipolitica nata nel 2008, e quindi nel momento in cui i partiti sono stati costretti a chiudere quella presenza organizzativa, perché non c'erano risorse, è incominciata questa decadenza, anche che, secondo me, è un problema anche proprio culturale che si va sempre più evidenziando. Cioè, la difficoltà di avere persone che vengano a svolgere la loro funzione, diciamo, di impegno, di servizio alla politica, perché la politica è evidentemente servizio e dobbiamo riportarla dentro questo quadro, non c'è quel momento di formazione e quindi si ha grosse difficoltà nel trovare persone anche in quelle che sono le elezioni amministrative. Questo cosa comporta? Che con questa alleanza forse abbiamo la possibilità di individuare persone anche che hanno una visione della politica fra di noi molto vicina o prossima e prepararci a affrontare queste elezioni amministrative. Parlando con tutti, perché nei territori oggi è prevalente le liste civiche, ma sono liste civiche che vengono fatte da persone che comunque hanno ognuna di loro un'appartenenza o perché sono fatte politiche o perché ci hanno un interesse. E questo tipo di possibilità va sfruttata al massimo per essere competitivi nei territori. Parliamo adesso di scuola. Ad Arezzo arriva il contributo nido. Fino a 1.000 euro per le famiglie in lista di attesa pensato per bambini dai 3 mesi ai 12, i cui genitori hanno un'ise sotto i 35.000 euro. La risposta definitiva, commenta Lucia, tanti resta portare a zero le liste d'attesa su tutto il segmento 12 mesi, 6 anni, oggi complessivamente già sotto il 20. Da qui la realizzazione di nuove scuole e più forza alla privato. Ma in attesa di queste operazioni e già in corso, arriva il contributo nido per dare sin da subito un segnale concreto alle famiglie. E oggi è la giornata internazionale per lo sradicamento delle povertà indetta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e in questo giorno la Caritas a Diocesana ha presentato l'annuale rapporto sulle povertà. Italiana sotto i 49 anni, disoccupata e con figli minori. Sono queste le caratteristiche dei cosiddetti nuovi poveri nella diciassettesima edizione del rapporto Diocesano sulle povertà inermi. Qui c'è la fotografia di coloro che si sono rivolti alle 42 Caritas parrocchiali sparse nel territorio. Tra le prime 5 nazionalità di coloro che chiedono aiuto, l'Italia è al 35,2%, poi ci sono Marocco, Romania, Albania e Nigeria. Le persone fragili, nel 2022 ne sono state accolte oltre 2.000, sono prevalentemente donne per il 55,8%, sposate e senza lavoro, che vivono in affitto. e per il 34,5% hanno figli minori a carico. Nel corso del 2022 sono state distribuite oltre 40 tonnellate di cibo e accolte nelle case di accoglienza 60 persone, di cui 8 minori. È una fotografia purtroppo realistica e preoccupante. Sembra quasi di poter dire che c'è una dimensione, un livello di povertà nella normalità della vita, nella normalità delle situazioni della comunità, che sono famiglie, sono i giovani, sono anche le presenze di chi arriva da lontano, dell'immigrazione, quindi una povertà diffusa che interpella e che chiede solidarietà, che chiede presenza. Credo che questo sia proprio il compito della Caritas, un radicamento nel territorio capace di cogliere le emergenze, le domande, i bisogni, presenza che dà risposte, ma soprattutto la Caritas ha il compito di promuovere la solidarietà di tutti e anche di compiere, di richiamare un cammino formativo nella comunità a questo tema della solidarietà, dell'aiuto, dell'accoglienza. Alvia la campagna di vaccinazione anti-influenzale nelle farmacie comunali di Arezzo. Mecenate e San Giuliano ospiteranno due sportelli dove i cittadini potranno richiedere ed effettuare l'annuale somministrazione del vaccino che configura una forma di prevenzione rispetto alle più comuni patologie stagionali. La vaccinazione è prevista in forma gratuita per i cittadini con più di 60 anni esclusi soggetti fragili che invece devono rivolgersi al medico di famiglia. Sarà garantita ma pagamento per chi invece ha meno di 60 anni. In parallelo gli utenti potranno anche sottoporsi ad una nuova dose del vaccino anti-covid. E ancora farmacie dalla regione arriva infatti il sì alla realizzazione della farmacia dei servizi. La regione toscana ha detto un sì definitivo alla farmacia dei servizi. Lo ha fatto con le parole del presidente Eugenio Gianni che intervenendo a conclusione del convegno organizzato da Federpharma ha affermato che la regione è pronta a dare seguito alla legge che applica nel concreto i dettami della farmacia dei servizi. La farmacia soprattutto con l'impulso del periodo pandemico si è trasformata in un centro di servizi socio-sanitari che sono importantissime e indispensabili per i cittadini gli assistiti soprattutto per quelli più fragili. L'obiettivo del convegno era quello di contribuire in tempi brevi a strutturare e convenzionare con il sistema sanitario regionale nelle farmacie tutti quei servizi che garantiscono la tutela della salute pubblica sul territorio. Noi abbiamo dimostrato di poter rendere e già reso anche in passato un servizio insostituibile io credo che noi potremmo fungere tranquillamente al dimoltiplicatore dell'attività delle farmacie delle case di comunità perché le attività che vengono fatte e proposte dalle case di comunità noi potremmo tranquillamente metterle in essere sul territorio verificare che i pazienti le seguono e ritornare le informazioni ai medici e al personale delle case di comunità in modo da poter creare una raggera che sia veramente utile a raggiungere il paziente fino a casa. Servizi che nell'ambito degli obiettivi del PNRR garantiscono l'assistenza di prossimità l'innovazione e la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria. Va difeso anche per evitare lo spopolamento delle aree interne perché soprattutto con l'utilizzo della telemedicina e quindi la diagnosi che si può effettuare a distanza noi possiamo riuscire a curare anche i nostri anziani anche i nostri malati a distanza e poi per chiaramente l'urgenza o per tutto quello che è programmato si va negli ospedali dei centri cittadini mentre per la gestione e quindi per la diagnosi utilizzare appunto queste strutture proprio utilizzando quello che è uno degli elementi chiave del PNRR ovvero la telemedicina. La scorsa domenica taglio del nastro speciale per il canile dell'EMPA adesso un luogo rimodernato e più accogliente. Ciò che Pimpreme sottolineare ha dichiarato in merito l'assessore Giovanna Carlettini è che entrare al canile oggi significa trovarsi dinanzi a un ambiente irriconoscibile rispetto al passato e lo dico con tutta la valenza positiva che questo aggettivo può avere su questo il comune ha fatto e farà la sua parte il benessere degli animali passa dall'offrire loro un asilo sempre più dignitoso e su questa strada intendiamo proseguire. E sempre questo fine settimana in centro è tornato anche il mercatino del calcite in piazza Sai Jacopo grazie al quale sono stati raccolti ben a 17.000 euro una somma importante grazie all'impegno di tanti bambini ragazzi ma anche genitori e nonni che sin dalle primissime ore del mattino la scorsa domenica sino a tarda sera sono stati dietro ai loro banchi ad offrire oggetti per sostenere le cause del calcite e adesso voltiamo pagina per parlare di Zenzero Fest si è conclusa anche l'edizione 2023 Arianna Mortelleti nipote di Andrea Camilleri alla sua prima prova narrativa è stata all'ospite dell'ultimo appuntamento dell'edizione di ottobre di Zenzero Fest con il suo libro quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni mi sono ispirata alla sua condizione di coma nonno è stato in coma per un mese intero dal 17 giugno al 17 luglio del 2019 e quindi chiaramente questa è un'esperienza che insieme al dolore diciamo mi ha fatto avere una certa curiosità nei confronti proprio di questa condizione che ho potuto però indagare solo attraverso l'immaginazione quindi provando a mettermi nei panni di una persona in coma questo romanzo mi ha permesso finalmente di ricordare nonno con il sorriso anche diciamo di lasciarmi alle spalle questo suo ultimo mese quindi questa esperienza molto dolorosa e di avere solo ricordi felici con lui altro protagonista della rassegna François Morlupi con il suo libro Formule Mortali un'occasione per conoscere meglio i già noti 5 di Monteverde questa è la loro prima indagine dunque posso dire che sono 5 stelle che appartengono alla stessa galassia ma non c'è molta interazione è il loro battesimo di fuoco ci sarà dopo nelle indagini successive che sono tra l'altro già uscite perché questo è un prequel a tutti gli effetti tutto parte dalla scoperta di questo cadavere di questa persona orribilmente mutilata e i suoi arti vanno a formare una celebre formula fisica in questo caso di Einstein dunque i nostri 5 poliziotti 5 di Monteverde oltre al fatto di dover risolvere ovviamente chi ha ucciso e perché dovranno anche capire la connessione eventuale con questa celebre formula passiamo adesso alla pagina dello sport a conto alla rovescia per il debutto stagionale delle squadre giovanili della scuola Baschetta Rezzo le prime date insegnate sul calendario sono mercoledì 18 ottobre quando prenderà il via il campionato regionale che vedrà impegnata l'Under 17 Rosini contro il Sancat Firenze e venerdì 20 ottobre invece quando l'Under 15 ospiterà lo sport Pisa poi nelle prossime settimane torneranno in campo tutte le altre 11 formazioni giovanili della società retina le varie squadre maschili aggregheranno circa 200 cestisti di diversità dall'Under 13 all'Under 19 e il progetto CAB invece collettivo Arezzo Ballet è diventato realtà un anno di selezioni e audizioni ha permesso di selezionare 15 danzatori e danzatrici di tutta Italia che andranno a continuare la prima formazione in rappresentanza della città di Arezzo a cui sarà proposto un percorso di studi e perfezionamento orientato alla preparazione di coreografie da presentare in Italia e all'estero Il primo incontro è fissato per sabato 21 e domenica 22 ottobre Questa perra stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci